seconda e settima corsia bene allo stacco Mattia resta un po' lì accanto Levu non fa mai testo anche Dragani è partito molto bene questa volta ci prova, l'ha detto, voleva provarci a dare una medaglia in casa come è aperta questa finale asse più di quanto ci si immaginasse guarda dov'è Orsi indietro Mattia Levu a 20.63 Dragani arriva al bronzo ce la fa Orsi quinto a 21.32 perde quest'occasione Mattia partito male 21.40